Bisognerà attendere martedì, giorno in cui davanti al giudice monocratico il Tar del Lazio si esprimerà sul ricorso presentato dall'US Avellino. Dopo la presentazione del ricorso le parti saranno ascoltate a Roma in attesa del provvedimento che deciderà il destino sportivo dei lupi. Il presidente del tribunale, verificata la nostra posizione argomentativa e nello stesso tempo anche quelle che sono state le realtà che si sono costituite, ha fissato una comparizione delle parti presso il Tar del Lazio per una audizione. Questa è una procedura che molte volte nella decretazione d'urgenza è una procedura che viene eseguita, perché la decretazione d'urgenza generalmente il presidente decide solitariamente. Invece in questo caso ha voluto ascoltare le parti. Evidentemente significa che le cose che abbiamo messo in campo oggettivamente sono argomenti abbastanza seri. La partita è molto difficile, ma la stiamo giocando proprio per la sua difficoltà con grande attenzione. Avvocato, è corretto dire una forzatura che c'è da essere moderatamente ottimisti? Quali sono le sensazioni che possiamo testimoniare di qui alle prossime ore? La partita è difficile. Il fatto che la stiamo giocando vuol dire che siamo tenaci, perché su questa cosa c'è l'intero interesse calcistico del nostro paese su questa vicenda. Il fatto che siamo ancora in piedi e che il decreto non è stato respinto, io lo vedo dall'altra faccia della metà, è un qualcosa che ci lascia comprendere che gli argomenti che abbiamo messo in campo, come le squadre, sono argomenti seri e quindi devono giocare la partita.